buonasera a tutti 2 dicembre 2022 buonasera margherita furrano a tutti e buonasera a roberto quaglia buonasera a tutti buonasera siamo tutti sul malaticcio voglio un po il raffreddore magari dopo di bronchite però abbiate pazienza sopportateci così come siamo da quasi da ospedale tutti allora iniziamo a parlare ovviamente dell'argomento che da ieri tiene testa su tutta la rete italiana e cioè la famosa sentenza della consulta della corte costituzionale italiana che praticamente ha detto non c'è niente da intervenire non c'è nessun bisogno di intervenire le cose vanno bene così la cosa insignificante irricevibile intoccabile immutevole tutti quegli avverbili nessuno si era illuso nessuno si era illuso di sentirsi dire no guardate che il governo ha sbagliato deve fare ammenda perché vivremo in un mondo troppo giusto perché succedesse una cosa del genere però magari ci si aspettava qualcosina di più non so tu margherita come l'hai presa no non mi aspettavo nulla di più sinceramente perché il potere non fa altro in tutti i modi di proteggere il potere cioè questa la corte costituzionale rappresenta semplicemente un'altra faccia del potere quindi non poteva dire un'altra cosa magari lo poteva fare meglio con un'altra formulazione linguistica magari d'altronde questo è solo un comunicato le motivazioni ancora non ce le abbiamo però è comunque è un'istituzione poi si può dire tante cose sulla magistratura ma questa non è la magistratura ordinaria è la corte costituzionale che se avesse ribadito un concetto diverso magari che ci avrebbe fatto più piacere comunque sarebbe andata con la sua sentenza a dover mutare degli equilibri dello stato che è molto complicato poter fare in questo momento quindi io ritengo che ci sia stato un errore di fondo dal punto di vista anche legale perché andare a da dire la corte costituzionale probabilmente è giusto perché qualcosa si deve fare però ancora questa volta io ci vedo una troppa volontà di delega da parte del popolo della cittadinanza una larga fetta della cittadinanza nei confronti di qualcosa qualcuno in questo caso dei legali che hanno fatto tutto quello che potevano magari potevano farlo peggio meglio poi potremmo andare a verificare ulteriormente però penso che per poter fare qualcosa di efficace contro il potere serva veramente manifestare la volontà del popolo in massa in piazza fortemente questo è l'unico modo perché ripeto il potere andrà sempre ad auto proteggersi troverà sempre in modo la formula per auto proteggersi robbi si sono d'accordo con margherita chiedere chiedere a un surrogato di autorità visto che il il genitore cattivo si è comportato male cercare un genitore buono che ti risolva il problema non risolve nulla quindi se questo lo possiamo dare questo quello che è successo come un test sulla salute o degradazione della no delle nostre istituzioni beh abbiamo visto che la risposta come prevedibile negativa quindi veramente ci vuole il il diciamo il furore popolare per per cambiare qualcosa altrimenti non possiamo sperare che qualcuno ci faccia dei regali no sono tutti essenzialmente d'accordo una un po meglio mi ricordo in passato in germania era stato in germania quando la corte costituzionale aveva bocciato alcune norme pesanti ecco diciamo da parte quindi là c'è ancora una parte di stato sano ecco in quel caso sì da noi evidentemente non c'è più speranza ma noi non ma da noi non c'è la speranza da questo punto di vista neanche prima perché noi siamo il paese delle stragi che non sono mai state identifica non è mai stato identificato un colpevole di tutte le stragi che si sono avverate al corso del 47 in avanti di conseguenza cioè se dal 47 non è stato l'attentatore della frase della gine tra come possiamo pretendere che nel 2022 ci sia un attimo di giustizia cioè noi viviamo in un paese anomalo dal punto di vista della giustizia non è molto conosciuta e quindi sembra per lo stesso concetto che siamo colonia colonia che si difende difende il proprio potere coloniale io devo dire una cosa a proposito di questa sentenza non sono avvocato lo sappiamo probabilmente non conosco bene i meccanismi sicuramente però io a me è rimasto impresso l'esempio di un mese fa dalla corte suprema di new york che infatti vorrei farvelo rivedere solo per ricordarci cosa è successo vediamola la 1 per favore questa notizia dei primi di ottobre del mese scorso la corte suprema dello stato di new york fa riassumere tutti gli impiegati o dipendenti licenziati per non essersi vaccinati e ordina che gli vengano pagati gli arretrati la motivazione che ha dato in questo caso è semplicissima vediamo la 2 la corte ha riscontrato che essere vaccinati non impedisce a un individuo di contrarre e trasmettere il covi 19 punto quindi secondo io non so ripeto non so come come siano le procedure qui mi hanno spiegato da tutto molto più complesso molto più bizantino però se avessero posto un solo quesito semplice scusate visto che sappiamo visto che ha accertato perché nessuno può contestare il fatto che questo non interrompe il contagio perché mi metti l'obbligo e fa e avessero fatto solo una domanda invece ogni avvocato di andare a tirare a fare le sue motivazioni le sue citazioni le sue le sue di rigori in punta in punta di del letteratura giuridica eccetera eccetera o una domanda semplice a quel punto secondo me quelli erano obbligati a rispondere a quella domanda e basta e se la metti bene con la domanda è molto difficile uscirne scusi visto che il vaccino non ferma il contagio perché metti l'obbligo basta non c'è modo di uscire dal punto di vista logico invece più gli offre argomentazioni più quelli trovano a pigli per andare a ghirogolare e a giocare appunto a parlare in legalese perché alla fine ti tirano fuori con la fumata tiepida che è venuta fuori che è il commento di la nota che è uscita ieri sera tra l'altro scusa roba un attimo solo aggiungo anche questo come dice margherita noi siamo uno stato molto speciale perché non solo a new york ma per esempio vediamo la 3 il consiglio di stato greco annulla la vaccinazione obbligatoria per il personale medico le prove presentate non giustificano l'obbligo cioè è semplice volendo ripeto non voglio mettermi a insegnare il mestiere a queste persone e sicuramente hanno agito nella massima buona fede probabilmente non è un sistema più complesso il nostro per cui non si può fare una domanda semplice ma se si fosse potuto farlo secondo me li mettevi con le spalle al muro robis si esatto io appunto mi tendo di legge ancora meno di te però da un punto di vista proprio diciamo legito e di saggezza popolare gli fai una sola domanda dove si è chiara la risposta se a quel punto a quel punto hanno un problema anche di non perdere la faccia perché quando tu poi su quella domanda rispondi in maniera palesemente diciamo insostenibile poi perde la faccia l'istituzione quindi li metti in crisi in quel senso lì in quel senso è avuto un'osservazione acuta anche se come detto da un punto di vista legale io non ho la minima idea di se questo sia praticabile Magretta vorrebbe aggiungere qualcosa su questo? Sono d'accordo se fosse stato possibile sicuramente sarebbe stato da portare a casa qualcosa di diverso almeno io dal punto di vista legale mi sarei accontentata della garanzia dello stipendio Allora passiamo adesso alla questione cinese abbiamo visto tutti grandi proteste nelle strade in diverse città e abbiamo scoperto che anche i cinesi come tutti gli abitanti del mondo sono assolutamente ipocriti guardate come hanno spiegato sul Global Times che sarebbe il giornale ufficiale del partito cinese scusate sì Global Times cinese come hanno spiegato la retromarcia che hanno dovuto fare per concedere un pochino più di un pochino più di per togliere un po' di restrizioni vediamo la quattro per favore allora il titolo è diverse città cinesi affinano ulteriormente le misure per i test di massa del covid la ricerca costante aiuta la Cina a ricercare un approccio più scientifico per fronteggiare i casi in aumento vabbè questo è stato il momento adesso sappiamo che anche loro sono ipocriti come noi ci bastava dire la gente si è rotta le scatole ha protestato troppo dobbiamo allentare un po' no questo non si può dire bisogna far finta che noi stiamo affinando ancora le nostre tecniche e va bene tutto il mondo è paese a parte questo voi ci vedete la vera domanda che tutti si pongono è in queste proteste cinese ci vedete un'onda lunga oppure è una cosa che va a morire sta già morendo margherita devo essere sincera che non l'ho approfondita completamente la situazione c'è chi dice che ci sia la mano della CIA per cui per questo dico non l'ho approfondita completamente perché mi piacerebbe andare ad analizzare più approfonditamente la questione io non so se ci sia dietro qualcosa di così grave se sia in atto un tentativo di destabilizzazione mi sembrerebbe strano credo comunque che qualcosa sia in atto potrebbe anche avere un'onda lunga come sta accadendo in Iran per altri versi questo sì potrebbe sicuramente essere le immagini che abbiamo visto sono comunque tutte piuttosto forti sono arrivate anche delle immagini ammesso che siano vere perché ripeto non ho avuto il modo per confrontarle e verificarle sono arrivate anche delle immagini dove ci sono i cinesi che bruciano i campi di isolamento per il covid a quelle non le ho viste io? sono abbastanza forti ripeto ammesso che siano vere certo 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 comunque tu la ritieni quindi genuina sostanzialmente genuina la protesta? proteste sicuramente come quelle in Iran proteste ci sono cioè come sempre accade no? come sempre abbiamo visto le proteste sono vere poi bisogna vedere quali sono i veri motivi per cui sono state indotte queste proteste certo certo se c'è qualcuno che le aizza Roberto? sì essenzialmente non posso anch'io sapere molto di più perché bisognerebbe essere lì cioè in Cina sapere il cinese o comunque avere dei punti di riferimento per avere delle informazioni inoppugnabili noi alla fine giudichiamo sulla base delle stesse informazioni che arrivano in occidente è un po' per tutti quindi è difficile calcolare però c'è un paio di osservazioni interessanti da fare che possono essere anche chiaramente sono solo oggetto di speculazione sono solo un elemento di speculazione può darsi che il fatto che poi ci sia una riedizione praticamente delle misure della pandemia può darsi che da un certo momento in poi ci sia una parte di popolo che effettivamente si svegli e dica no adesso basta anche perché poi viene metabolizzato il fatto che diciamo le misure che all'inizio magari avevano anche il consenso di molti perché c'era effettivamente la paura poi invece siano finalizzate a una stretta totalitaria però diciamo che da noi possiamo trarre una piccola lezione se vogliamo che anche in un paese che chiaramente ha degli strumenti di repressione maggiori che l'occidente insomma tradizionalmente se anche lì a un certo punto poi il governo è costretto a fare marcia indietro quando la gente scende vehementemente in piazza ecco questo ci dà anche una risposta a noi su cosa dovrebbe accadere in Italia per evitare la stretta totalitaria quando dovesse di nuovo verificarsi cioè se hanno fatto marcia indietro in Cina state tranquillo che la fanno anche qua ebbene noi siamo troppo comodi a casa nostra con le nostre partite del mondiale con il tè caldo con il divano figurati prima che smuovi la massa degli italiani a questo punto è veramente una partita persa comunque a proposito di ipocrisia non dimentichiamo una cosa che tutti quelli che avevano auspicato le restrizioni qui da noi si sono completamente dimenticati di essere stati dei discriminatori totali adesso festeggiano e inneggiano i cinesi perché si liberino e inneggiano la loro libertà vi facciamo vedere una piccola selezione perché è troppo bella allora nella 5 abbiamo due slide della CNN a sinistra è una vecchia dell'anno scorso che diceva la rumorosa minoranza europea dei non vaccinati che viola le regole sta venendo emarginata dalla società cioè trattati come paria oggi parlando dei cinesi al cuore delle proteste della Cina contro la politica zero covid i giovani protestano per la libertà cioè i cinesi hanno diritto ed è giusto che protestino anzi facciamo il tifo per loro quando invece succedeva a noi noi siamo gente da emarginare un altro il più clamoroso di tutti è Trudeau perché Trudeau è quello che ha messo addirittura ha chiuso i conti bancari a chi protestava pur di bloccare le proteste allora vediamo un po' la 6 a sinistra è di ieri ovviamente quando ha dichiarato l'emergenza nazionale per fermare le proteste contro le restrizioni oggi lo stesso Trudeau dice chiunque in Cina dovrebbe protestare dovrebbe poter protestare continueremo a fare in modo che la Cina sappia che noi difendiamo i diritti umani e le persone che esprimono la propria opinione cioè non c'è nessuna nessun rendersi conto che sei la stessa persona che non più di un neanche a febbraio di quest'anno mi sembra che sia successo che ha fermato le proteste nel modo più rozzo più antidemocratico che esiste in tutto il mondo è una cosa pazzesca questa gente conta veramente sulla incapacità del popolo di ricordare o forse loro stessi hanno una memoria che dura due settimane perché non si ricordano più di essere stati quelli che hanno detto quella cosa i più grandi di tutti naturalmente da noi chi può essere Bassetti questo uno che avrebbe perorava anche l'obbligo delle vaccinazioni per i paracarri praticamente vediamo la 7 le violenze le violente proteste di piazza in Cina contro la politica dello zero covid spero possano rappresentare per i cinesi un nuovo inizio che il covid possa rappresentare per loro quello che piazza Tiananmen ha rappresentato per tutto il mondo una scintilla per la libertà a parte che non è informato su come è andata a finire piazza Tiananmen poveraccia ma vabbè perdoniamogli questo lui è convinto che lì sia andata non sappiamo quale rivoluzione ma tra l'altro dice le violente proteste in piazza in Cina spero possano quindi la violenza addirittura va bene per lui che poi piagnucola se qualcuno per strada lo insulta corre subito a piagnucolare a fare quello che ha bisogno della scorta ragazzi cosa dobbiamo fare? cioè viviamo ormai in uno stato di ipocrisia costante su tutto io ho dei momenti ve lo giuro che sto male penso a voi penso a te penso a Margherita penso a Roberto penso a quelle per fortuna qualche decina di migliaia o forse centinaia di migliaia di persone che la pensano come noi ma siamo veramente messi male dal punto di vista del rispetto della logica del rispetto del sano pensare cioè qui sta andando tutto a puttane diciamo chiaramente non c'è più nessun principio fermo valido la corte costituzionale che scrive quello che vuole tanto nessuno la va a cosa quando mai un giornalista andrà a contestare io penso che 20 o 30 anni fa una sentenza come quella della corte costituzionale sarebbe stata contestata da certi giornalisti non da tutti magari ma da alcuni sì oggi avete visto la corte ha chiuso la porta in faccia il pensiero critico è completamente annullato conta solo da che parte stai se hai vinto hai vinto e chi se ne frega di quello che ha perso si è il crollo totale di tutte è il crollo totale di tutte le regole di tutte quelle cose che hanno fatto la civiltà essenzialmente l'abbiamo visto sia sulla politica internazionale dove la legge internazionale è stata sostituita dall'ordine delle regole che poi sono quelle dettate appunto dagli americani però in questo caso abbiamo diciamo l'ipocrisia fatta realtà perché l'ipocrisia c'è sempre stata in tutta la storia dell'umanità è proprio un difetto dell'essere umano che gli porta a distorgere la realtà ma oltre certi livelli diventa veramente una forma di psicopatia e io non vabbè Bassetti si commenta da solo però un Trudeau Trudeau è riuscito a dire l'esatto contrario praticamente si è autocondannato da solo perché almeno Bassetti non era uno di quelli che comandava invece Trudeau era il capo di quelli che ne ha fatti di tutti ne abbiamo parlato a lungo in tutto il mondo è stato uno dei posti dove il governo si è comportato peggio nei confronti dei suoi cittadini e lui adesso fa questo discorso cioè ci sono dei casi adesso vabbè non dico delle cose non dico quello che penso se no poi ci chiudono il canale però lo potete pensare anche a voi ecco no cioè questo tipo di ipocrisia il fatto che poi a valle trovi un pubblico che non si infiammi di indignazione quando sente queste cose a parte noi perché vabbè noi io parlo della gente comune che non riesce a paragonare due cose vedere che sono la stessa cioè il cittadino comune che sente Trudeau non riesce a capire che Trudeau sta parlando di se stesso quando parla della Cina cioè che sono esattamente gli due comportamenti uno stigmatizzato e l'altro idolatra c'è proprio una cosa il fatto che in basso la gente non sia in grado di vedere queste due cose come la stessa questo doppio standard nell'interpretazione della realtà da parte proprio di tutti è qualcosa che riempirà i libri di psicologia del futuro credo che ci sia anche dell'altro comunque a questo punto dopo aver visto anche le dichiarazioni di Trudeau credo che veramente ci sia un inizio di scontro da parte della cosiddetta comunità internazionale che non è altro che l'Occidente nei confronti di Cina e lo sappiamo già Mosca e Teheran e in questo caso viene presa di mira anche Cina perché ricordo qualche settimana fa al G20 cosa è successo tra Trudeau e Xi Jinping Xi Jinping ha redarguito come se fosse un bambino Trudeau perché gli aveva detto Xi Jinping guarda che tu hai avuto il colloquio con me hai riportato nei tuoi organi di stampa hai riportato la notizia in modo malevolo diverso da quello che è stata la realtà dei fatti mentre invece Trudeau gli ha risposto no ma noi siamo un paese democratico abbiamo diritto al libero pensiero e noi la nostra stampa è libera e facciamo così e l'altro gli ha detto no così non va bene non possiamo intrattenere rapporti così in questo modo non va bene tutto quanto da rifare l'ha redarguito in maniera piuttosto forte quindi io credo che nel momento in cui ci siano queste tensioni ovviamente che sappiamo con la Russia iniziano ad esserci delle sanzioni di nuovo e delle tensioni molto alte anche con l'Iran lo ripeto anche con la Cina diventa insostenibile la situazione per diversi motivi uno dei quali per esempio è che ieri o l'altro ieri è iniziata l'alleanza militare tra Russia e Cina guarda caso hanno pattugliato l'Oceano Pacifico insieme per la prima volta dei cacciobombardieri cinesi sono partiti da aeroporti russi e dei cacciobombardieri russi sono partiti dagli aeroporti cinesi e sono passati anche vicino alla Corea del Sud e da lì si sono alzati dei bombardieri sia dalla Corea del Sud che del Giappone ci sono delle tensioni che si fanno sempre più palesi e quindi è chiaro che diventa anche facile manovrare i desideri i desiderata più o meno celati del popolo sempre a proposito di ipocrisia oggi è il festival dell'ipocrisia possiamo definirlo così ve ne dico un'altra ricordate la settimana scorsa la Russia sponsor del terrorismo internazionale perché staccavano la corrente andavano a distruggere le centrali elettriche degli ucraini a questa non si fa perché in civile attaccare i target i bersagli civili eccetera eccetera guardate la meraviglia di Web Archive questo articolo di Repubblica è del 1999 vediamo la 8 per favore 1999 durante la guerra dei Balcani bombe alla grafite e la Serbia è al buio il portavoce Nato ha detto è uno strumento di pressione psicologica possiamo spegnere l'interruttore ogni volta che lo vogliamo e poi vediamo la 9 per favore quando l'ho chiesto al portavoce Nato dice ma scusi voi avete detto che avreste attaccato solo bersagli militari questi qui non solo bersagli militari la risposta è quella lì sottolineata in rosso sfortunatamente anche i sistemi di comando e di controllo dipendono dall'elettricità se Milosevic vuole veramente che i suoi cittadini abbiano acqua ed elettricità deve semplicemente accettare i termini della Nato e noi fermeremo queste operazioni qui nuovamente siamo noi che facevamo noi perché la Nato siamo noi non è la Nato siamo noi la Nato che facevamo questo ai serbi non ce n'era uno che abbia osato dire ah anzi sì c'è quello che ha fatto la domanda poverino che però si è sentito rispondere se Milosevic vuole sa benissimo cosa deve fare quindi oggi bisognerebbe dire se Zelensky vuole sa benissimo cosa deve fare no per lui non va bene lì sono sposto del terrorismo sì qui siamo oggi questa è la puntata dei doppi standard questa è la puntata sull'ipocrisia dell'Occidente e sui doppi standard doppio standard tra l'altro è un'espressione che usano essi stessi per in qualche maniera scamparla perché il doppio standard non esiste il doppio standard significa che io ti do un pugno ma tu non lo puoi dare a me cioè che discorsi sono quindi tutte le cose di cui adesso attacca accusano la Russia pari 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 le abbiamo fatte noi e adesso Ursula von der Leyen ha dichiarato che vuole istituire un tribunale speciale per tutti i crimini russi eccetera solo che l'elenco evidentemente dei crimini che poi vorranno imputare alla Russia guarda casa pari pari li abbiamo commessi tutti noi in misura probabilmente molto superiore sia per quantità di guerra e quindi quantità di reiterazione del crimine sia probabilmente per magnitudo cioè quindi per danno procurato per quantità di persone che sono morte in conseguenza delle nostre azioni quindi proprio è la puntata dei doppi standard perché da tutte le parti ci ritorna questo orrore e temo che non sarà l'ultima Margherita no ne abbiamo combinate veramente di tutti i colori non abbiamo altro che da vergognarci da continuare a chiedere neutralità neutralità che non vuol dire semplicemente uscire dalla NATO ma vuol dire fuori da tutte le guerre perché questo comporta la guerra comporta un meccanismo di menzogna interna ed esterna continua non smetteremo mai di almeno la politica non smetterà mai di infliggerci di menzogne quotidianamente a questo punto fino a che non sarà messa la parola fine ad ogni tipo di guerra infatti dunque veniamo al covid e adesso vi do una bellissima notizia ricordate l'incremento esponenziale trombi, miocarditi, ictus problemi circolatori di ogni tipo eccetera eccetera erano arrivati a dare la colpa a chi mangia la pizza piuttosto che quando fa troppo freddo piuttosto che non mi ricordo più se fai l'amore alla sera o al mattino ce le erano inventate veramente di tutte ma questa l'ultima supera tutte le altre perché cari signori Novax la colpa delle miocarditi degli ictus, dei trombi eccetera eccetera è vostra chi lo dice? Mazzucco? no, lo dice una ricerca scientifica uscita di recente su PubMed guardiamola vediamola eccola lì allora vaccini Covid-19 e la errata interpretazione della chiarezza degli effetti collaterali percepiti riguardo alla sicurezza dei vaccini ok? leggiamo cosa dice la ricerca la diffusione della paura e la disinformazione che vengono disseminati da persone senza preparazione scientifica per terrorizzare la gente affinché non faccia la vaccinazione non solo lascia la gente nella condizione di prendersi il contagio ma potrebbe anche causare ulteriori effetti collaterali visti durante la campagna di vaccinazione questa breve rassegna offrirà dati che potrebbero dimostrare che la disinformazione perpetuata dal movimento anti-vax potrebbe causare più morti ed effetti collaterali di qualsiasi vaccino è stata condotta la breve revisione della letteratura pubblicata e si è scoperto che lo stress mentale provoca chiaramente vasocostrizione e restringimento arterioso di vasi sanguigni se quindi i soggetti sono in preda al panico preoccupati, stressati o spaventati dalla vaccinazione le loro arterie si restringeranno e diventeranno più piccole al momento della vaccinazione questo meccanismo biologico la costrizione di vene, arterie e vasi sotto stress mentale è la causa più probabile di coaguli di sangue, ictus, infarti, vertigini, svenimenti, visione offuscata perdita dell'olfatto e del gusto che potrebbero essersi verificati subito dopo la somministrazione del vaccino l'estremo stress mentale del paziente potrebbe molto probabilmente essere attribuito alla paura e alle tattiche intimidatorie utilizzate dai gruppi anti-vax ragazzi smettete di far paura alla gente perché li fate morire di infarto questo è quello che ti sta dicendo è colpa di chi protesta con i vaccini adesso io vorrei sai come si dice certe volte vorrei vedere in faccia chi l'ha scritta questa roba del genere una roba del genere il problema è che mi troverai probabilmente davanti la faccia di un imbecilla qualunque al quale hanno detto di scrivere queste cose che non si rende neanche conto di cosa è riuscito a scrivere ma questi cosiddetti scienziati ammesso che siano degli scienziati come dicevi te si sono mai degnati di leggere i risultati delle autopsie dove sono state fatte perché in Italia evidentemente non sono state fatte o comunque stanno per essere fatte in questi casi di morti improvvise perché adesso c'è questa nuova definizione morti improvvise che non si sa bene cosa siano perché non sono semplicemente tra virgolette degli infarti sono qualcosa di più perché sono immediate non c'è neanche il dolore dell'infarto quindi prima di scrivere su PubMed uno scenità di questo genere hanno fatto tutte le verifiche oppure ci stanno continuando a prendere in giro e stanno continuando a insinuare dell'odio inutile beh domanda retorica ovviamente però magari Roberto vuole rispondere beh qui devono aver assoldato qualche scrittore di fantascienza canaglia per scrivere una cosa di questo tipo ovvero mi avessero commissionato a me di trovare un motivo cioè probabilmente gli avrei scritto una cosa del genere perché in modo contortissimo ma proprio contortissimo si scopre si capisce evidentemente che si è partiti dalla colpa che si doveva stabilire per trovare un'improbabilissima serie di nesso causale tra l'altro a quel punto andando a scavare diciamo nel torbido si potrebbe dire che se è vera questa cosa che hanno cioè questo delirio che è stato appena presentato come spacciato per cosa medica ma supponiamo che fosse vera a questo punto io direi che lo stress e la paura di tutti quelli che si andavano a vaccinare forse era causato dal fatto che erano obbligati perché altrimenti perdevano il lavoro ricordiamoci quello che era andato a farsi la vaccinazione col braccio finto quello chiaramente non andava perché voleva andare andava con grandissimo stress tant'è vero che c'era il braccio finto sperando che non se ne concessero e poi l'hanno denunciato non si capisce quale fosse il reato quindi a questo punto se questa tesi fosse paradossalmente vera che è invece delirante ma supponiamo che fosse vera a quel punto varrebbe come atto d'accusa di tutti quelli che hanno costretto pena l'esclusione dal mondo del lavoro e l'ostracismo sociale e andare al ristorante andare sugli autobus e andare dappertutto hanno costretto per andare in discoteca milioni di persone ad andare a fare una vaccinazione della quale evidentemente avevano paura quindi potrebbe venire usato paradossalmente contro di loro ma poi c'è anche proprio un problema lo chiamano post hoc propter hoc una cosa del genere cioè del prima del dopo cioè la domanda è semplice sono venute prima i primi morti o le prime accuse di pericolosità al vaccino hanno cominciato a morire dopodiché post hoc la gente ha cominciato a dire oh il vaccino ammazza non è il contrario quindi sono arrivati prima i casi di AstraZeneca poi il ritiro di AstraZeneca e poi hanno cominciato a montare quindi già quello basterebbe a questo signore per mettere in ordine un pochino le cose ma è chiaro che quando sei pagato e ti obbligano a fare queste cose e fai come dici tu ti metti quello che vuoi dunque sì ma infatti come hai detto tu giustamente cioè entrando nel merito quello che hai detto è l'argomento tombale che chiude completamente poi se uno volesse andare dentro c'è anche l'altra cosa cioè nell'insieme è proprio una faccenda a capovolto la causa dell'effetto è fantastico Assange c'è qualcuno che ogni tanto si ricorda di Assange vediamo la sale numero 11 gli USA lasciano cadere le accuse contro Julian Assange la lettera di cinque testate per liberare il fondatore di Wikileaks la lettera aperta pubblicata su New York Times The Guardian Le Monde e il Paese e Der Spiegel quindi Stati Uniti Inghilterra Francia Spagna Germania l'incriminazione di Assange si legge è un pericoloso precedente e minaccia di minare il primo vendamento e la libertà di stampa in America cioè ma il mestiere del giornalista cos'è? quello di accorgersi dopo delle cose? perché questo è diventato cioè questi arrivano adesso oh guardate che sta roba qui minaccia di minare il primo vendamento di libertà di espressione pensa al giudice che fa cacchio vero non ci avevo pensato liberate subito Assange per fortuna me l'ha detto il New York Times se no non mi veniva in mente ma non lo so io ragazzi non voglio dire parolacce però mi devo fermare perché non ho più alternative cioè ho la parolaccia o il silenzio se no devo cominciare a risultare tutti allora non si può dare una risposta seria chiaramente a una cosa del genere però una risposta un po' meno seria è che questi giornalisti qua uno di questi giornalisti per caso è incappato in una vecchia trasmissione di Contro TV dove noi parlavamo di queste cose ci picchia viola la loro libertà d'espressione ferma tutto ferma tutto bloccate tutto hanno chiamato tutti i loro colleghi nelle altre redazioni ragazzi ma lo sapete che Assange è imprigionato per sbaglio cioè non dovrebbe essere imprigionato perché l'hanno detto Mazzucco quaglie furlano ma scusa Margherita a parte tutto secondo te cosa c'è dietro questo fatto di queste cinque testate che di colpo si svegliano tutte insieme ma allora c'è innanzitutto un fatto che vorrei far notare sono cinque testate e le hai nominate giustamente il problema è che nel 2010 erano sei le testate che hanno pubblicato i documenti di Wikileaks di Assange cioè i dispacci diplomatici del Dipartimento di Stato statunitense erano esattamente queste cinque testate più una testata italiana che si chiama indovinate la Repubblica la Repubblica non ha detto niente in questo caso quindi si è anche tolta da questo gruppo si è tolta da questo gruppo nonostante avesse pubblicato i documenti nel 2010 quindi l'Italia che ci sta a fare tu dici giornalista ormai che tipo di lavoro fa va bene allora si potrebbe anche dire meglio tardi che mai esagerando ma l'Italia la Repubblica non l'Italia la Repubblica che tutti quanti conosciamo oramai come quotidiano ma arriviamo a questi livelli ci facciamo veramente ridere in faccia anche dal resto del mondo di fronte ad un giornalista che è incarcerato in un carcere di massima sicurezza è assurdo per non dire altro comunque ragazzi i giornalisti un merito va dato per esempio loro sono quelli che quando ci dicono che c'è da fare uno sforzo c'è da fare un sacrificio va fatto e loro sono i primi a farlo quindi ricordate quando ci dicevano piuttosto staremo al freddo ma aiutiamo Kowalski mi veniva da dire aiutiamo Zelenski perché ha bisogno di essere aiutato quindi piuttosto staremo al freddo soffriamo un po' l'estate erano le scondazioni dottori spenti adesso sono i caloriferi spenti e quindi quando loro ci incitano a fare questo i giornalisti appunto di Repubblica alla stampa del Corriere sono molto bravi nel farlo vediamo la strada numero 12 la stampa i giornalisti muoiono di freddo e minacciano lo sciopero praticamente si lamentano che in redazione fa freddo e non hanno più voglia di lavorare vogliono stare a casa vi lascio il commento ma non è che comunque i neuroni funzionino tanto con il caldo per cui anche se hanno qualche grado di meno possono aiutare Zelensky e magari vi viene qualcosa di più creativo da scrivere cioè ma sono loro che ci hanno detto che bisognava fare così e fare i sacrifici forse un altro uno dice vabbè vai da protestare da lui ce l'hanno detto loro attraverso gli organi di stampa che dovevano fare i sacrifici e adesso si lamentano perché devono portare la stufetta da casa o sono lì se lì c'è l'articolo se la morì da ridere sono tutti lì col maglioncino e col doppio guanto di lale non ce la fanno più gli sta bene comunque gli sta bene sia il freddo che la sputtanata che ci sono presi allora ai giornalisti della stampa bisognerebbe ricordare che già dal quinto secolo avanti Cristo i filosofi greci avevano scoperto la relazione tra la causa e gli effetti ecco bene adesso vedono gli effetti ma la causa sono loro perché sono stati i giornalisti a rendere possibile questa escalation della guerra contro appunto la Russia per procura in Ucraina che ha prodotto adesso il fatto che noi non abbiamo energia per scaldarci e poi come hai detto tu giustamente loro invitavano tutti a sacrificarci perché gli veniva ordinato di dire queste cose probabilmente non comprendevano il significato di quello che dicevano e si ritenevano come classe eletta evidentemente al di sopra degli effetti perché i giornalisti hanno lo stipendio quindi molti tanto io a me lo stipendio arrivo io mi pago l'elettricità invece no adesso gli tocca gli effetti gli effetti che loro hanno imposto al resto della popolazione e probabilmente peggioreranno le cose e come detto è la stampa che ha creato l'escalation rendendo reale questa rappresentazione della crisi in Ucraina nel modo in cui sappiamo però il fatto che non se ne rendano conto di nuovo c'è la dissociazione della realtà perché te ne accorgi ti arriva il freddo non te l'aspettavi ci rimani male ingoi la pillola amara e diciamo vabbè pazienza invece no cioè si lamentano quindi continuano a non voler comprendere il nesso causale tra quello che hanno fatto e quello che adesso gli capita è probabile Margherita grazie mille per i tuoi interventi seguite sempre il telegiornale è l'unico telegiornale settimanale che tiene aggiornati sulle questioni internazionali è quotidiano come? quotidiano e cosa ho detto? settimanale ah se l'ho fuso anche io chiedo scusa ovviamente quotidiano da lunedì al venerdì grazie mille saluta anche tutta la tua redazione Roby volevi fare un annuncio veloce? ah beh niente di particolare diciamo che siamo poco prima di Natale e il mio libro il fondamentalismo olivodista è stato recentemente aggiornato alla versione 6.0 cosa vuol dire che ho aggiunto analisi di nuovi film era già due anni che non subiva aggiornamenti quindi chiunque volesse fare regali di Natale adesso sa che c'è la versione nuova magari il vecchio libro che avete già lo sbolognate a un amico come regalo di Natale e voi vi beccate quello nuovo ho fatto lo spot pubblicitario quando lo dico dopo la gente dice perché non l'hai detto prima allora ci siamo tolti si trova in qualunque libreria online giusto? sì qualsiasi libreria online si cerca il fondamentalismo olivodista su internet e si trova tutte le possibilità di acquistarlo va bene grazie a tutti arrivederci alla prossima settimana ciao Grazie a tutti.